tu 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 tu, eh, SGT try no ma quello era platino ok ho perso ho perso non serve neanche giocare ok ok posso fare così allora dai, non una brutta mano parte subito la musica ok yes non una brutta mano, eh per iniziare, però mi sa che su qua ci avrà il Cristo ah puoi aggiungere si, ok quindi già capito che Dex sta giocando beh era abbastanza ovvio dell'abilità direi chissà che carta era cos'è che faceva aspetta evoca specialmente potevamo dire questo evocchiamo il coso si dai 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 let's go let's go boom e attiva quello aspetta non la posso usare controlla verso perché l'ho messo giù sono un po' pirla ok bravo posso attaccarti no perché c'avrà anche la carta che mi farà male no ok no perché attacco questi no perché c'avrà anche la carta, eh guardalo ok ah va bene e te lo bandisco che problema c'è che problema c'è ah non posso più attaccare però cazzo ok interessante and così eh no a z a z a z sputtani così no boom questo no fa il cagone me la bandisce però non è anche la fenella va quindi nada no cosa fa proviamo boh proviamo si non penso di bandire quello grazie eh attivo l'abilità ma non è che li posso fondere così a cazzo vabbè lo tagliamo se il direi uno e poi l'altro bravo bravo quanto è uno può scartare pesca una carta ah ok lo vedo un po' alle strette giusto un po' si ok prendo mille quindi adesso aspetta rimane ok ok non posso eliminare quella che vuoi fare ok vediamo 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 un po' allora io vorrei provare a fare questo che portiamo in vita questo proprio lo vogliamo che non ti aspetti esatto esatto no attiviamo stabilità yes una due yes attiviamo questa questo uno due tre mamma mia entrambi i dragoni stronzi in culo effetto di quale mostro ah sempre quello e allora attacco quello cattiva l'abilità si bravo boom prendo danno ok però glielo bandisco yes posso attaccare di nuovo oh cazzo attacca quella dai cos'è ok attacca si fammi attaccare cosa fai ok madonna cosa sta succedendo ok e quella boom adesso posso usare l'effetto si scarto questa e l'attacco un'altra volta mamma mia mamma mia signori battuto quello col nome tryharder oddio che sta facendo qua che ha raggiunto anche il rank di platino quindi possiamo andarne più che fieri mamma mia visto che hai i poteri forti perché hanno dignità e perché ho detto mio amore secondo valigia che carino col pulcino dov'è il pulcino? è il tuo rango inserate il tuo corsario che cona la carta per farmi vincere dio ma che mano di merda ecco infatti mi farà il culo adesso vincere sali di 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 no ok neanche ranko quindi mi hanno sprecato questo match molto interessante molto interessante dammi un altro turno dammi un altro turno ok scherzo tre carte settate no questo qua ci avrà uff uff cosa ci avrà se questa carta viene mandata al cementer lo provo che la seconda non sono dalla tua mano che non è ok però quello cos'è cos'è eh o non esattamente ah ok quindi lui spera di avere un drago in mano che lo sia adesso c'è di tre carte trappole tutto uguale dico bruh cosa stai facendo ah questo questo potrei però aspettiamo aspettiamo no c'è ora la stessa guardalo guardalo ah no quindi cosa c'ha cosa c'ha ok ok io no l'attacco diventa fare al buono ma no questo è tipo da usare quando hai gli altri dragoni sgravi eh no ho fatto bene non attaccarli uff uff qua fa male evocherà drago bianco ok no drago bianco va bene cosa farà tacco questo evoluzione alternativa uouhัh uouh 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 nooo nooo cos'è piano piano secondo te la Are you sure about that? Oh, and the turn cos'è? Oh la la! Aspetto al suo turno Bruh Ok Si, si è vero Molto vero Però io a questo punto attivo l'effetto Che lo probabilmente vorrei distruggermi, quindi boh No, distruggimi Bravo E termina il turno così Uh, attenzione Oh 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 What's he gonna do? Ok Cosa vuole fare? C'è da un altro rago bianco in mano? No 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 Ok Ok Boh Vediamo se funziona Allora Allora Poi posso fare questo, poi Ok Che casino Posso anche fare questo? Oddio Ok Ok Eh 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 Boh Proviamo, proviamo Yolo Yolo Dimmi che non è una carta infame Ok non lo è Uuuu greve Greve E non la posso usare però No Non mi fa schippare perché No questa carta è coperta E crash al gioco Oddio Quando mostro che non attacco Uff ok Il draghetto Esatto guardala guardala Però io posso fare questo Au E certo E buongiorno Buongiorno Dai Dai Che match Che match duro Andiamo Guarda guarda che play Boom Battaglia Attacco Uuuu Mamma mia E così abbiamo dimostrato Chi è il caiba più forte Oh Ci sarebbe stato benissimo Se avessi arrancato Dopo sto match Però niente Bene ragazzi Bene ragazzi Come avrete visto Negli ultimi giorni Mi sono buttato Veramente tanto Su Duel Links Ciò non vuol dire Che da adesso Farò solo lo streamer Youtuber di Duel Links Assolutamente no Continuerò a giocare Anche ad altri giochi Quando non avrò voglia Come è sempre stato Detto questo Se volete vedere Duel Links O altri giochi live Come sempre Vi ricordo di seguirmi Al mio canale Twitch.tv Slash Mijizzaro2 E se volete Altri video del genere Non dimenticatevi Di lasciare un mi piace Un commento Così magari inizio Anche un po' A piacere All'algoritmo di Youtube Non si sa mai